Buon pomeriggio e buon pranzo a tutti voi cari amici ebbene dopo il breve video di questa mattina facciamo lo stesso anche per ora una mattinata almeno quella mia abbastanza impegnativa con un po' di lavoro poi mi sono gustato fino a 20 minuti fa in preparazione della puntata di roda la notte tra oggi e domani la puntata della settimana scorsa di Monday Night Raw poi ho visto sul canale ufficiale youtube della WWE che a livello numerico comunque la puntata di venerdì scorso di SmackDown ha già superato negli ascolti per quanto riguarda la top ten quella della settimana precedente questo vuol dire che le storie stanno proseguendo bene come anche il segmento tra Sonateville, Mandy Rose, Odyssey e Ziggler è stato molto visto su youtube e anche Braun Strowman per ovviamente senza dimenticare a Raw della puntata di lunedì scorso Drew McIntyre il passaggio di Seth Rollins a Drew McIntyre e quindi ho letto un po' sui social che praticamente non so forse interessa poco la notizia comunque Cody Ross dovrebbe ritornare al capello bruno abbandonare il capello biondo e invece per quanto riguarda il coronavirus le riaperture verranno gradualmente regione per regione grazie a tutti mi trovate sui miei soldi canali social facebook, youtube, instagram e twitter a stasera per il video serale ciao a tutti alla prossima